C'è un poccetto rosso! Sono qui, mamma, che c'è? Un'emergenza! O non è, diciamo così, malata? Vuole una feta di torta, anzi una torta intera. Io le preparerò subito una torta speciale e tu gliela porterai oggi stesso. Sì, e sì, ho solo contenta di vedere la donna. Io sono la sesta generazione di questo ramo della famiglia Colla e quindi le marionette noi Colla le abbiamo nel sangue. Le marionette sono, diciamo, un'espressione artistica che i bambini di oggi colgono con grande simpatia, con grande affetto, con grande piacere. I bambini ci fanno un sacco di domande e ci piace tantissimo lavorare per loro, ci piace spiegare, ci piace raccontare come funziona questo lavoro. Il teatro ha una magia straordinaria e in questo senso mi preme ricordare l'osservazione di un bambino di seconda elementare proprio della scorsa stagione che uscendo da un nostro spettacolo disse ma il teatro è più bello del cinema e questo secondo me riassume tutta la magia del teatro, del nostro teatro perlomeno.